Ho trovato sconveniente, non opportuno e qui mi fermo, l'interessamento del ministro per le riforme istituzionali su un caso bancario di una città di provincia. Questo comportamento è soltanto scorretto o si può profilare come profilo di responsabilità? Io non lo so, il dubbio mi viene. Il sindaco di Arezzo è pronto a far causa a Maria Elena Boschi e dal padre Pierluigi, ex vicepresidente di Banca Etruria, per danno di immagine alla città. Oltre che le aziende retina hanno subito una perdita di chance che si configura come danno materiale diretto. E quindi io ho ritenuto come sindaco della città di pormi la domanda, soprattutto porla all'ufficio legale, e in caso di risposta affermativa procedere legalmente nei confronti di chi con il suo comportamento, in questo momento in ipotesi, ha procurato un danno alla città. A valutare se e come Arezzo abbia subito un danno a seguito della vicenda Etruria spetterà ad una perizia di un centro media specializzato. Si parla di cifre non di piccola entità, si parla di milioni di euro, ora io non ve lo so quantificare, sarebbe in debito da parte mia esprimermi su una quantificazione del genere. Però io credo che se si andranno a fare dei conti, indipendentemente dai profili di responsabilità, sia una perdita molto ingente. Il ricavato della causa sarà destinato al ristoro dei risparmiatori azzerati. Nei modi che la legge ci consente e avendo riguardo di privilegiare quelle categorie che hanno subito maggior danno. Grazie.